Mi capita in questi giorni di fare delle iniziative, vado in alcune sale congressuali, quando sto per arrivare, nessuno con la mascherina, poi mi vedono arrivare e tutti quanti la corsa a mettere la mano. Non è che dovete fare bella figura con me, dovete tutelare la vostra salute e la salute dei vostri cari, cari nostri concittadini. Allora vi invito, quando siamo nei locali al chiuso, a indossare la mascherina. Certo, poi si sta in un ristorante, bisogna consumare un pasto, e beh, ti togli la mascherina. Quando andiamo a passeggio, andiamo sul lungomare, se stiamo in mezzo a 5, 6, 7 persone, quello è il momento nel quale assolutamente bisogna indossare la mascherina. Non facciamo tutto il contrario di quello che è necessario. Quando passeggiamo con la mascherina, quando parliamo a 50 centimetri di distanza, ci abbassiamo la mascherina, così non funziona. Allora l'appello è avere grandissimo senso di responsabilità. Noi possiamo riprendere le attività e riprenderle anche con serenità a queste due condizioni. Governo nazionale attento molto di più ai controlli esterni e tutti quanti noi attentissimi a rispettare le regole di contenimento del contagio. Allora l'appello è un'altra cosa.